Oggi giornata speciale, la festa della mamma abbiamo deciso di festeggiarla insieme alle mamme detenute del carcere che come vedete stanno preparando un grande pranzo perché tra poco arriveranno i bambini, i loro figli e in cortile si festeggerà la festa della mamma tutti insieme. Oggi Universo Humanitas e il presidente Roberto Schiavone di Tavignana sono venuti qui a portare un messaggio importante che è quello della rinascita, quindi queste ragazze invogliate sicuramente dallo spirito di solidarietà possono capire che c'è altro, c'è un'altra strada che possono seguire una volta uscita dal carcere potranno intraprendere un percorso di legalità, magari di solidarietà per tornare ad essere libere e anche orgogliose della propria vita. Ogni anno alla festa della mamma siamo qui per stare vicino a queste donne che passano purtroppo in reclusione anni della loro vita per reati connessi a quello che hanno fatto. Noi ci siamo, ci siamo ogni anno ma non solo per la festa della mamma ma per tutta la festa della donna, la prevenzione, ci siamo sempre perché è importante non lasciare nessuno da soli. Che bella, come sei bella. Diggiela a te questa, chi stai aspettando che vieni a casa? Ma lo sappiamo mamma. Noi è un momento bellissimo stare qui perché come donna e come mamma mi piace dare supporto a queste donne perché nella vita bisogna avere sempre una possibilità per riscattarsi e per riemergere. L'Universo Humanitas sono oltre 42 anni che siamo vicino ai più bisognosi. Ogni anno siamo qui al carcere di Forni, al carcere di Salerno per dare un momento di gioia sia alle mamme che ai papà. Grazie e grazie a voi.